vai si filma a tu per tu con lo squalo paolo ascolta apri il guadino lo devi tirare fuori prima cerca di allungarlo almeno di aprire questo dai cerca di aprirmelo sai come si apre un guadino no ce la fai a guardinarmelo così la devi mettere tutta qua mi raccomando non lo voglio perdere ma lo faccio stancare qui sotto la barca è lui è lui è lui è lui guarda 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 devi metterlo è bravo cerca di tenermelo giù deve entrare nella rete paolo deve entrare nella rete devi però stare più giù paolo sennò lui non entra lì va bene cerca di buttare vai grande grande paolo yes lo squalo ragazzi lo squalo rilascio di una verdesca nuca puoi 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 grazie 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 eh non lo so mi importa in porta eh, ho vista eh, gira qui guarda, vedete quello che è legato eh, sono veloce questi c'è da mettere la sarda, io te lo dico eccola no, ha saltato, mi si è slamata eh, mi si è slamata eccola, bella 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 questa no, ma guarda ragazzi è due non ne tengo una non ne tengo una saltano e mi si stanno bravo Leo, vai lampo davvero? hai visto? incredibile oh, sei in video eh bellina? bellina è qua vai grande 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 capricano eh, grazie apriamo la lampuga subito facciamo oh, bella bella se la vuoi da tirare al mare ok 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 ok